Ciao, sono Cristiana Innocentì, sono una studentessa magistrale all'Università Ca' Foscari di Venezia e sto seguendo il corso in Economia e Gestione delle Arti e Attività Culturali. Ho trovato CREA grazie ad un annuncio nella bacheca dell'Università di Udine. Le attività che ho svolto sono esattamente quelle che mi aspettavo di fare, quindi sono molto contenta di questo percorso che ho intrapreso qui da CREA, è stato molto formativo. Ad esempio ho trattato la comunicazione con un festival che si tiene a Fagagna tutte le estati ed è stato molto interessante perché ho potuto seguire il progetto dal suo inizio fino alla fine del mio tirocinio. Le ragazze di CREA sono state tutte molto carine e disponibili, anche quando avevo delle difficoltà, non sapevo fare delle cose, sono state disponibili ad aiutarmi e quindi il mio tirocinio qui è stato molto positivo perché ho imparato molte cose e sono riuscita a potenziare le mie capacità e il tutto in un clima molto piacevole e amichevole. Grazie!